Porca di quella puttana, stiamo in crisi, non c'ho più nessuno che mi rende una mezza bomba, incredibile, mezza bomba, famiglia di sede, devo andare per vie illegali, ma vaffanculo, devo andare su dark web, dove devo andare, madonna, vaffan, aia, aia, allora, Allora, madonna, soffre di scogliosi che tanno questa roba, ok, ci siamo, allora, tre bombe nucleari, un euro, ah, ecco, sta scritto un M di euro, un milione di euro, minchia, era troppo bello se costavano un euro, vabbè, ordiniamole, c'è tipo Amazon, te li portano a casa Ah, me lo dici proprio così, vieni nella casa, abbandonata, tra cinque minuti, oh cazzo, veloce, veloce, no, l'uscita è dall'altra parte Ah, aia, madonna, che schifo, sto posto fa più schifo di uno che c'è il bagno che non lo pulisce da cinque anni, oddio, chi sono questi? Siamo noi, siamo quelli delle bombe, ah, ok, 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 eh, quindi, hai portato il milione, ma se l'ho pagato online, minchia, ma avete cercato pure cento euro in più Ah, eh, buona, goditi le bombe, arrivederci, arrivederci, madonna, adesso Sì, ma almeno me le potevate portare fuori da qua e adesso devo scendere le scale con tre bombe addosso Ah, ok, ok, tutto a posto Cazzo è successo Eh no le ho letto della crisi di bombe nucleari E pensavo che tu sei rimasto senza bombe No non ti preoccupare Ce l'avevo ancora Un po' caduto Vabbè comunque ce l'avevo ancora Ok meno male Me ne posso comprare una Ma certo tieni Madonna comunque com'è fatta ad averle Che io online non le posso comprare più Eh sono andato per vie legali Ah ok Rivederci Si è dimenticato per l'ennesima volta di pagarmi Ma guarda che spettacolo Ho la mia torre Oh eccomi mela Ah ecco di Peppe comunque sta refinendo la torre Stavo finendo la torre Eh ho comprato questa Ma la vado a scoppiare da qualche paio Ma aspetta non c'è la crisi di bombe nucleari E non le potevi più comprare Eh ma quello Gaetano c'ha i metodi In che senso c'è me Oh eccomi qua Guarda che invece di venire qua tutti i giorni E ci devi far portare tutti noi Perché non fai una cosa ti ordini 100 nucleari ogni consegna In modo che così non mi scassi coglioni ogni 5 minuti Minchia non ci ho pensato Tu inizi a darmi queste così la prossima volta mi ricorderò Quindi cosa sta facendo mela Non lo so c'è il tuo piede in faccia Ah ok ma lo sposto Oh cazzo Che cazzo è stato Eh non lo so Eh la scatola Vai credo che ci sia qualche criceto mannaro là dentro Ok comunque dammi i nucleari Ah lui l'ha comprato al dark web Sì ma che è sta puzza non lo so Peppe mi dica Noi siamo in due Quindi dovrebbero esserci quattro occhi Eh E perché quanti occhi ci stanno Uno due tre quattro cinque sei Sei occhi Oddio Oddio Chi ha questo Oddio ma che cazzo Ma che cazzo Non lo so Via via la pole Oddio Aiuto Aiuto Ma che cazzo Ma che cazzo Aiuto Cosa cazzo sta succedendo Oddio Ah Gennaro che ci facevi dentro la scatola con noi Eh mi ha mandato Ciro Dovevo praticamente scoprire Perché Gietano c'aveva le nucleari Durante la crisi E dobbiamo scoprire pure noi come farce dare Ah ok ok abbiamo scoperto In pratica ci ha ricomprato al dark web Sì ma in pratica credo che stia arrivando qualcuno Dove ci nascondiamo Buttiamoci dalla finestra Ottima idea Cosa cazzo è stato Non lo so Forse il criceto mannaro è scappato da dentro la scatola Io non vedo nessun criceto mannaro Va forse era una mosca mannara Visto che la scatola volava Vabbè io vado a prendermi le bombe Arrivederci Arrivederci Che so ste mosse di con Mortal Kombat Eh mi sto esercitando Guarda What up Scusa Ok Eh basta No ordina altre 10 Non si sa mai Io non c'entro un cazzo Io me ne vado Ve la vedete voi Sì ma prendine pure 5 per ciro C'è giusto un pensierino Peppa il carrello sta a 4,5 milioni 30 bombe nucleari Vedi che sono 4,5 miliardi Altri che milioni E perciò Dove cazzo li vuoi pagare? C'è i miei trucchi Che allora faccio pagare con carta Qua o paghiamo appena arriviamo là? Quando arriviamo là Ok Perfetto Tra 5 minuti Minchia muoviti Oh cazzo La porta è di là La porta è di là Oddio Ah eccovi qua Salve Salve Siete voi quelli che avete ordinato Tutte quelle nucleari Minchia Fatemi vedere quanti soldini mi avete portato Eh in realtà noi non vorremmo pagare Perché? Perché io non voglio pagare Stronzo Di merda Veloce prendi le nucleari Signore delle bombe nucleari Eccomi qua Oh cazzo Eh Sta prendendo il sole Al chiuso E al coperto Eh sì è una nuova Va di moda prendere il sole all'ombra Dai me l'avete ucciso Dai lo volevo fare io Avevo ordinato 100 nucleari E io 35 Minchia mi pregnavo tutte ste nucleari Senza pagare Esatto pure i Un secondo Eh questo non era previsto Tanto tu l'hai ammazzato Sì non l'ha ammazzato solo a lui Pure il suo amico che assomigliava a me Vero? Vero? Vabbè Vabbè Prendiamoci i nucleari Tanto ormai è morto Vai Vai minchia Vai Prendi tutte le nucleari Dove cazzo le tiene Vedi nelle tasche Eppure questa volta Ah vi ho dato una mano A questi bravi Guaioncelli E a me ma non mi hanno dato Manco una nucleare Stifetenti Grazie Grazie Grazie